Tutti i partiti hanno sempre qualche borderline, nessuno va a botta sicura. La cosa particolare che riguarda Fratelli d'Italia è che non è un partito nato ieri, è un partito nato 11 anni fa dalle ceneri di un partito che è il più antico tra quelli sopravvissuti. E quello che ti colpisce è che tirano su di tutto e che non c'è un cerbero alla porta che dice tu no. C'erano delle avvisaglie, altro che se c'erano può capitarti il caso di sfiga, ma quello l'avevano espulso dall'Alleanza Nazionale, era entrato nella Lega e l'avevano espulso anche dalla Lega. Uno espulso dall'Alleanza Nazionale e dalla Lega, ma perché te lo prendi? Ma possibile che non trovi niente di meno peggio di Pozzolo? E questa è la cosa che inquieta.